il motorola xum 2 è l'evoluzione della motorola xum che è stato il primo tablet one com ad uscire sul mercato questo è uscito a fine 2011 quindi non ancora in tempo per ice cream sandwich anche se un aggiornamento è già previsto per il corso del 2012 si tratta di un tablet quindi one com 3.2 è basato su un processore da texas instruments dual core da 1.2 gigahertz e sul classico formato da 10.1 pollici di schermo con risoluzione di 1280 per 800 pixel rispetto al primo xum strato di un dispositivo molto più sottile e decisamente più leggero quasi 100 grammi in meno di peso l'interfaccia utente è quella standard di android e a parte questo in realtà non ci sono grossissime novità abbiamo una fotocamera posteriore da 5 megapixel con possibilità di ripresa a 720p e flash a led più una fotocamera frontale da 1.3 megapixel c'è anche l'uscita hdmi per un connettore micro hdmi per cui servirà un cavo apposito c'è l'uscita micro usb per la ricarica il collegamento al pc e di periferiche usb e la versione in prova in particolare quella dotata anche di connettività 3g e cspa con l'elogio per la sim ma anche invece la possibilità di espandere la memoria tramite schede di memoria mentre la memoria integrata praticamente solo di 16 cioè solo si fa per dire di 16 giga di dati lo sum 2 offre quella che l'esperienza d'utilizzo di one com 3.2 che necessita ancora di qualche ottimizzazione che è stata aggiunta con appunto ice cream sandwich la prima versione di android ottimizzata sia per tablet che per smartphone la versione in prova è praticamente quella brandizzata team per cui troviamo alcune icone personalizzate da team ma il resto l'interfaccia è quella standard di android troviamo oltre le applicazioni di team anche delle applicazioni preinstallate a motorola tra cui la suite di evernote e la suite citrix per la connettività aziendale più ovviamente tutte le applicazioni stock di android il processore da 1.2 gigahertz è sicuramente sufficientemente veloce con una fluidità della interfaccia grafica abbastanza convincente la navigazione su web anche qui in questo caso offre un'esperienza d'utilizzo abbastanza fluida nella maggior parte delle situazioni c'è naturalmente il flash player per i contenuti interattivi delle pagine web vediamo in ogni caso comunque come il browser ogni tanto sia un po lento a caricare gli elementi come quasi ci fosse un problema di memoria anche se la memoria è integrata da 1 giga quindi abbastanza sufficiente però comunque il pinch to zoom funziona piuttosto bene e comunque lo scrolling nonostante un minimo di lag è comunque abbastanza convincente lo schermo è molto buono è un lcd tipo ips la soluzione comunque adeguata al suo formato e la lettura dei font sicuramente buona molto buona anche l'angolo di visione che non varia troppo appunto a seconda di come teniamo inclinato il tablet le prestazioni grafiche con i vari giochi sono abbastanza convincenti sono in realtà le applicazioni 2d stranamente a sembrare quasi più pesanti vediamo in questo caso come appunto lo scrolling delle pagine specie se andiamo ad aprire i link delle notizie appare quasi appesantito a livello hardware si mantiene un tablet comunque abbastanza convincente appunto ripetiamo è il sistema operativo che necessita ancora evidentemente di qualche ottimizzazione rimane il nodo delle applicazioni per tablet che non sono tantissime a meno quelle studiate appositamente per il tablet anche nella selezione stessa di google non troviamo in realtà granché a parte le principali applicazioni speriamo che con l'aggiornamento di ice cream sandwich appunto questo e altri tablet android possano diventare molto più appettibili specie quando c'è un player come l'ipad che è sicuramente un nemico temibile per la piattaforma grazie mille